Ora per la giunta di sicuro, la terra che la muove perché lei la usa l'acqua e la sping contra e la stacca. Non è la meglio quella terra lì eh? No. Sì sì, in cucina credo che è mollo e quindi è un po' troppo lontano. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!